Ciao ragazzi, mi sono appena svegliato ma tutti mi chiedono il tutorial del nostro nuovo brano strumentale d'entere per far colpo sulle ragazze. Come si fa? Questo è un primo tutorial, è gratis, altri saranno a pagamento. Basta, innanzitutto prendere un mandolino. E chi di voi non ha un mandolino a casa? D'altronde siamo italiani, pizza e mandolino. Prendi il mandolino, poi prendi un plettro, lo tieni tra le dita in qualche modo e fai così. Ok? Le altre parti che sentite che sembrano elettroniche, in verità, sono state fatte da Carlo Peluso con la bocca. Quindi vi farà poi un tutorial lui per spiegarvi come si fa. Grazie mille, ascoltate la canzone, ventre su YouTube, Spotify, eccetera, 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 ballatela e fate colpo sulle ragazze.